Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video classico appuntamento mensile con la Top & Flop di Topolino per quanto mi riguarda scusate se non ho inserito nella sigla e nel mio volto come anticipazione come faccio di solito ma per cause logistiche sono impossibilitato a farlo quindi vi dovrete accontentare di questa modalità di fruizione del video ma iniziamo subito ragazzi senza perderci inutili chiacchiere con la storia Flop del mese di agosto per quanto mi riguarda ed è ragazzi Miki 2.0 uscita su Topolino 3482 in due tempi sia il primo tempo a nessuno e ciò che sembra e anche la seconda parte che vedremo qui a breve, brevissimo Blackout storia scritta da Tito Faraci e disegnata da Luca Usai storia che in origine era stata disegnata da Claudio Sciarrone e la metto nelle flop ragazzi non tanto per la qualità della storia che è di pregevolissima fattura ma più che altro perché è uscita sempre a mio modo di vedere fuori tempo massimo stiamo parlando di un ciclo di storia quella di Miki 2.0 che è uscita insomma due o barra tre anni fa ragazzi è veramente così spuntata dal nulla ok che il direttore Bertani ha la voglia di voler terminare ciò che è iniziato lo stiamo vedendo anche con le uscite di Pickup Giant fortunatamente ma in questo caso ragazzi purtroppo la storia ha una grossa penalità è proprio per il discorso che è uscita troppo tardi secondo me se no per il resto è abbastanza godibile vediamo che vi spoilerò giusto la fine che a parte che proprio non vediamo più neanche dei personaggi tipo Tip e Tap che in questo caso erano anziani vediamo alla fine come nel presente Topolino e Macchia Nera se la ridono quando questo cozza molto con il nuovo personaggio di Macchia Nera creato da Marco Nucci e appunto è uscito dalla ribalta già dall'anno scorso con Io sono Macchia Nera e appunto è continuata con il bianco e nero insomma di quest'anno e anche l'incubo dell'isola di Corallo quindi per questo ragazzi per me questa storia va dritta nelle flop ma non perché non meriti come storia ma proprio per il discorso che appunto è uscita fuori tempo massimo passiamo quindi al terzo posto ragazzi di questa mia particolarissima classifica uscita su Topolino numero 3481 Paperino in vacanza con Gino soggetto a sceneggiatura di Marco Bosco e disegni di Federico Franzò questa storia mi ha divertito tantissimo e mi ha fatto scoprire un trend che si usa una moda che si usa attualmente cioè quella di far viaggiare degli oggetti, dei peluche in questo caso e vengono create addirittura delle pagine social specifiche dei vari personaggi e che diventano famosissime in questo caso abbiamo questo Gino che è questo peluche di pinguino che possiamo vedere ha fatto il giro del mondo praticamente disegni molto belli storia veramente divertentissima i soliti guai in cui si va a ficcare Paperino ve la consiglio veramente ragazzi perché è qualcosa di molto ma molto divertente passiamo al secondo posto della mia personalissima classifica ovvero il ritorno del ciclo Paperinjo con Paperino e i pirati di Tangheria o Tangheria, non lo so primo e secondo episodio usciti su Topolino numero 3484 soggetto a sceneggiatura di Carlo Panaro e disegni di Marco Palazzi anche qui vediamo dei disegni spettacolari dove vedremo girovagare Paperino questa nuova terra che è quella appunto governata dalla principessa Elvira la Tangheria dove dovrà cercare di fare affari però il suo viaggio verrà ostacolato dai pirati, in questo caso i Bassotti comandati da Rockerdak davvero storia particolare che si discosta un po' dalle altre storie del ciclo Paperinjo perché diventa un po' più fantasy del solito però a me è piaciuta davvero molto qui vediamo certi disegni veramente molto particolari molto belli davvero davvero molto bello guardate che bello il regno dell'isola di Quacchia qui il castello della principessa Elvira davvero davvero molto bello vedete anche questa splash page che qui sembra quasi un'epoca vittoriana possiamo dire oppure settecentesca non lo so che comunque è davvero molto ma molto d'atmosfera anche qui vedete che bella questa scena molto ma molto bella ragazzi ve lo consiglio e andiamo al primo posto ragazzi primo posto veramente qualcosa di di fenomenale non è stato nemmeno tanto pubblicizzato come per il pianeta Ramingo la storia pluripuntate che sta uscendo in questo momento ma ragazzi per me e vi ripeto io non metto il pianeta Ramingo nella classifica perché non è ancora terminata quindi nulla toglie che la potrò mettere nella mia top 10 o top 12 non so come fare a fine anno in questo caso da un'idea di Alex Bertani soggetto a sceneggiatura di Alessandro Sisti i disegni e supervisioni colori di Ivan Bigarella Ivan Bigarella lo stato dell'arte ci ha già colpito in passato a gennaio con il viaggio del Pippon Pipponichi adesso non mi ricordo come si chiama insomma con la storia basata su una storia vera ma qui vediamo veramente le origini le origini di uno dei personaggi più importanti di Paperopoli ovvero il fondatore di Paperopoli Cornelius Cot che in questo caso qui si chiama Cornelius Van Cot perché è un emigrato appunto che è andato in America poi vediamo la sua storia che c'è il papà che cerca sempre di tornare nella sua terra d'origine che però non ci riesce mai vediamo davvero questi disegni che sono un'opera d'arte ragazzi scusate che pixeloso un po' l'immagine ma veramente sono qualcosa di spettacolare e qui abbiamo tutti e due gli episodi il primo colorato da una splendida Irene Fornari veramente fantastica e anche il secondo episodio è colorato davvero davvero molto bene bellissimo cioè guardate qualcosa di veramente magico che vi fa capire appunto le vicissitudini vi fa scoprire come è stata l'infanzia di Cornelius Scott prima di diventare appunto il pioniere il pioniere e il fondatore di Paperopoli anche questi i colori sono davvero spettacolari questa scena poi dinamica è veramente qualcosa di magnifico ragazzi davvero molto ma molto bello ve lo consiglio a tutti i costi e poi per quanto riguarda la copertina più bella del mese di agosto per me ragazzi è proprio quella dedicata alla storia di Cornelius Scott ovvero quella del numero 3483 dove vediamo questo il presente che si fonde con il passato vediamo Paperino che compra i popcorn a qui qua qua contrapposti a Cornelius Scott appunto che va a comprare o vende le pagnotte le pannocchie non le pannocchie le pannocchie di mais con cui appunto poi si farà si creerà il popcorn davvero un qualcosa di bellissimo copertina questa adesso vi dico anche non mi ricordo chi è stata disegnata ve lo dico subito ecco qua appunto disegnata da Ivan Bigarella e colorata da Andrea Cagol ragazzi quindi riguardiamocela un po' meglio bella 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 un po' zoomata ragazzi questo era il mio top e flop di agosto 2022 perdonate ancora se non c'è editing professionale ma questo è quello che posso permettermi al momento quindi o facevo così o non facevo proprio il video fatemi sapere cosa ne pensate qual è la storia che vi è piaciuta di più ad agosto e quella che vi è piaciuta di meno io sono sempre qui pronto a rispondere ai vostri commenti con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao